Presentato presso la sala figlia di Iorio della provincia di Pescara, il SUE, lo sportello unico Europa, una rete che servirà in prospettiva per il rilancio dello sviluppo territoriale dell'area vasta Vestino-Angolana e vede protagonisti il comune di Penne, capofila del progetto, sostenuto fortemente da altri tre comuni dell'area Città Sant'Angelo, Loreto Aprutino e Montebello di Bertona, ed ha come obiettivi la possibilità di individuare opportunità presenti, pianificare, organizzare le risorse umane e rafforzare le competenze tecnico-professionali grazie a una strategia unitaria ed integrata Il programma della durata di un anno è stato finanziato grazie all'intervento dei PORF SE 2014-2020 della Regione Abruzzo e prevede importanti attività come azioni di scouting, stakeholders, tavoli di lavoro e piani di comunicazione Ringraziamo innanzitutto la Regione per averci dato questa opportunità perché grazie all'empowerment delle istituzioni locali e alle risorse che ha messo a disposizione la Regione che ha creduto in questo concetto importante di prendere forza internamente i territori per poter poi avere maggiore appeal sul mercato dare voce alle istanze dei territori che spesso rimangono inascoltate a causa dei vincoli di bilancio, della crisi soprattutto anche degli eventi calamitosi che hanno portato allo spopolamento delle aree interne C'è una capacità economica di circa 700 e 8 mila euro per i comuni i quali presentavano un progetto, più comuni in questo caso nella Vessina, Penne e gli altri comuni sono stati premiati per creare quelle condizioni di essere un punto di riferimento per gli stakeholders che sono sia sul territorio, sia per i comuni, sia per i soggetti associativi quello di cui c'è la ricerca di bandi europei per poter concorrere poi insieme a tutta una serie di attività con Bruxelles per recepire fondi europei